Il commissario straordinario per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli, ha presentato il rapporto sulla ricostruzione del centro Italia con i dati aggiornati a maggio 2024. Nell'introduzione alla conferenza stampa tenutasi nella biblioteca di Palazzo Chigi, il commissario ha voluto rimarcare la problematica del calo demografico prima di elencare i dati. Per quanto riguarda la ricostruzione privata, sono 8.500 i cantieri attivi. Negli ultimi due anni è stato utilizzato il 57%, 2,5 miliardi di euro dei 4,4 finanziati. Nel primo semestre del 2024 il ritmo delle liquidazioni segna più 17% rispetto al primo semestre del 2023 e più 42% rispetto al 2022. Inoltre, fino al 31 dicembre 2025 si potrà unire il 110 al contributo per la ricostruzione dal sisma. Il totale del plafond richiesto è di 121 mila euro. Crescono anche i numeri dei rientri nelle proprie case, dai 14.000 richiedenti del 2022 e 12.000 del 2023 si è passati agli attuali 11.000, 2.000 in Abruzzo. Per quanto riguarda la ricostruzione pubblica, nelle quattro regioni c'è stato un cambio di passo con il 95% degli interventi sbloccati. Dei 4,2 miliardi stanziati per 3.500 interventi in programmazione ordinaria sono state finanziate 2.725 opere pubbliche per un valore di oltre 2,2 miliardi di euro, mentre in programmazione speciale sono state finanziate 784 opere per un valore di oltre 2 miliardi. Castelli ha voluto poi illustrare i dati del progetto Next Appennino che si pone l'obiettivo di contrastare il calo demografico e contribuire alla sostenibilità dell'ambiente. Il piano si divide in due macromisure, sicurezza, sostenibilità e connessione per le città dal valore di 1,8 miliardi per oltre 870 interventi e il rilancio economico e sociale per 700 milioni. L'assessore regionale Umberto D'Annunti si ha elogiato il cambio di passo soprattutto per alcuni interventi nella provincia di Teramo e L'Aquila. L'assessore ha infine ringraziato il commissario per gli interventi dal punto di vista dell'attività produttiva e della viabilità con il collegamento tra L'Aquila e Lazio e quello tra Ascoli e Teramo.